...possa prendere giustamente la via di Maranello, forza Michael, giro finale, gli ultimi chilometri, pensiamo a distanza le trombe, le bagniere rosse qui in casa della Honda già sventolano, sono tantissime, Michael Schumacher sta per vincere il Gran Premio del Giappone, Ettore Gioanelli ha aperto giustamente il microfono, lo vediamo in mezzo agli uomini in rosso che sono già al muretto, le ultime curve per Michael Schumacher che sta regalando l'attesissimo sogno, si sta per realizzare la vittoria del Firesco nel campionato del mondo di Formula 1-2000, siamo qui alla curva del cucchiaio, siamo a pochi chilometri dal traguardo, la festa sta per iniziare qui a Suttuca, a Maranello e in ogni angolo del mondo, ci sono 420 club Ferrari sparsi nei cinque continenti dove la Ferrari vanta un numero impressionante di tifosi, l'ultima curva è per Michael Schumacher inseguito vanamente da Micah Ackinen, il titolo mondiale non gli può sfuggire, l'ultima Citan, poi l'ultima curva prima del traguardo, Michael Schumacher ce l'ha fatta, si, Michael Schumacher, campione del mondo, riporta il titolo ridato a Maranello, 21 anni dopo Giori 7, campione del mondo, Michael Schumacher, vanno per noi, i colori dell'arco valeno sulle insegne del cavallino Lampante, Michael Schumacher vince la faccia a Maranello, purta il barichello, partita, è il bale, campione del mondo, Michael Schumacher è campione del mondo sulla Ferrari, sembra che lui sembra credersi, batte le mari sul volante, ecco i gioanelli, faccio sentire, Siamo campioni del mondo! Sì, sono i meccanici della Ferrari che lo spiego, campione del mondo campione del mondo Michael Schumacher riporta l'iride a Maranello tra pochi minuti la grande festa, la linea alla regia di Roma